L'albero coricato è un saggio dedicato ai cinque quadri con cui Chagall ha voluto restituirci in qualche modo reinterpretarci il Cantico dei Cantici, il grande poema biblico sull'amore, sul desiderio, sul tempo, sul tempo creato. Per me è un po' il libro della vita, richiesto 15 anni di elaborazione, contiene e esprime un po' tutte le mie esperienze, le mie esperienze di studio, le mie esperienze di vita, le mie scelte, ad esempio la scelta di credere alla gioia, di interrogarla sul senso del mondo, la scelta di vivere l'impegno culturale in una dimensione relazionale come un colloquio che genera colloqui e il riferimento alla Bibbia, all'ebraismo che per me è concreto, è quotidiano ed è completato dal mio radicamento nel cristianesimo. Nel Musée du Message Biblic a Nizza questi cinque quadri attendono il visitatore in una saletta appartata, esagonale, quasi forse una cappellina e quando li vidi per la prima volta senti qualcosa come un'identificazione immediata e personale. Non vidi un sogno, meno che mai il frutto di un arbitrio, ma in quelle cinque tele vidi trasfigurata la realtà della mia vita, la realtà dell'esistenza, la realtà dell'esistenza di tutti. Mi sembrò di vedere una narrazione autobiografica, un mitos autobiografico in immagini, qualcosa come le tragedie di Shakespeare, come la comedia di Dante, come i romanzi di Dostoievski, come la mitologia greca. Una narrazione che può veramente aiutarci ad abitare la terra, e ad abitare il tempo della nostra vita. E allora ho cercato di capire e di analizzare la genesi di questo ciclo nell'opera di Chagall, cercando di vedere le sue radici, di vedere come Chagall vivesse l'arte come apertura, come relazione, ebraicamente simbolica, non allegoria, non metafora. L'arte per Chagall ha a che fare con l'amore, sono parole sue, l'anima di tutti è santa, sono parole sue, sono realista perché amo la terra. Questo spiega anche questa simbologia personale, originale, aperta, questa pittura narrativa, questi simboli che sono profondamente radicati nel reale, un'arte che è apertura, che è relazione, che è simbolica in senso ebraico, non è allegorica, non è metaforica, vuole essere un seme che cresce nel terreno che incontrerà nell'arte, è impensata come servizio, come offerta, come gratuità, è una verità che è il contrario della vanità. L'arte di Chagall poggia sull'intera cultura ebraica dell'Europa dell'Est e d'altro lato poggia sull'intera cultura occidentale, perlomeno sulla cultura occidentale così come andava definendosi a Parigi, in particolare nell'epoca degli avanguardi e dal 1910 in poi. Allora ho cercato di capire anche come il mito di Vitebsk, la cittadina natale in Bielorussia, fosse anche il mito di Chagall stesso, come quel mondo, quell'ambiente, quella lingua, lo Yiddish, che fu sempre la lingua di Chagall, Chagall riuscì ad abitare sette anni negli Stati Uniti senza imparare una sola parola di inglese. La sua lingua era lo Yiddish, lo Yiddish che come dice Leo Rosten è una lingua che non ha peli sulla lingua, che fornisce a Chagall immagini, espressioni idiomatiche che ritroviamo nella sua pittura, ad esempio do stare sul tetto per dire avere la testa tra le nuvole. La cultura Yiddish della sua cittadina, che era capitale di distretto, non era uno shtetl, che gli fornisce immagini, gli fornisce una storia, gli fornisce un mondo da idealizzare, gli fornisce figure con cui identificarsi. L'ambiente chassidico, segnato dalla presenza del chassidismo Chabad Dubavic, con la sua esaltazione della gioia, dell'unione sessuale come momento in cui l'uomo e la donna riparano il cosmo e lo restituiscono a Dio, come momento in cui l'alto e il basso si incontrano, l'importanza del cantico dei canteci e l'attitudine chassidica a raccontare questo mondo di rebbe miracolosi, questo mondo di viaggi, di peripezie, questo mondo di sacralità della vita quotidiana. Un mondo che Chagall però, come altri artisti, scrittori, intellettuali, i suoi contemporanei, penso a Scholem Aleichem, a Mendez Forim, a Adrian Susskever, tra i tanti, un mondo che Chagall e questi artisti avevano abbandonato e dunque hanno idealizzato, ma di cui vivono, di cui respirano. E l'arte di Chagall è proprio arte ebraica, è apertura, è relazione, è simbologia, è radicata nel quotidiano. Pt. Epska è ricordo ed è finzione. Parlare di sé è parlare di quel mondo e parlare del mondo è parlare di sé in quel mondo, in quel mondo amato, in quel mondo trasfigurato, per risvegliare nell'altro lo stesso atteggiamento di meraviglia, lo stesso atteggiamento di identificazione amorosa. Ecco, per questo l'enfasi anche di tante tere, di tanti colori di Chagall. Ho voluto indagare un po' il rapporto con alcuni temi, con alcuni stilemi proprio dell'arte del periodo, la presenza di Chagall a Parigi, il suo rapporto con le avanguardie, con i surrealisti, con i simbolisti, questo incontro mancato. Chagall non è un surrealista, non è un simbolista, assolutamente. Il diverso significato che Chagall dà al clown, il clown che in molti artisti e in molti scrittori, come anche in Baudelaire, ad esempio, ha una funzione derisoria, è l'immagine dell'artista nel suo fallimento, nella derisione. Quello che è il clown in Picasso, quello che è il clown in Funambolo, in Apollinaire, invece per Chagall il circo è un mondo felice, il clown, il funambolo, è l'immagine dell'artista in una felicità piena. Allo stesso modo la donna non è quell'essere intermedio tra il bene e il male, ma spostato verso il male, quell'essere che può oscillare tra la santità o la perversione. Quella donna che troviamo in Vedekin, in Wild, in D'Annunzio, la donna in Chagall è l'esatto contrario, è colei che completa l'uomo, è colei che porta gioia, che porta bellezza, che porta serenità. La sua nudità non è potere, la sua sessualità non è dominio, la sua nudità è offerta di sé, richiamo all'intimità, che è il contrario della sessualità come conflitto. E anche il come Chagall si rappresenta come angelo tante volte, il significato della figura dell'angelo, a confronto con l'angelo di Clee, come Walter Benjamin lo aveva interpretato. L'angelo di Chagall viene dagli angeli della mistica ebraica, è colui che è intermediario tra il divino e l'umano, ma è dalla parte dell'umano. È colui che tiene ferma la pagina del libro mentre il Rebbe sta studiando perché la corrente d'aria non la sposti, non la giri. È colui che toglie la pietra dal sentiero perché il piede del giusto dello zadic non vi inciampi. E Chagall si identifica con l'angelo, presenta se stesso come angelo perché così vede l'artista, così vede il pittore. Siamo lontanissimi dall'identificazione derisoria con la miseria del clown sfiorito, ad esempio nella Fanfarlou di Baudelaire o nei Saltimbank di Picasso. Ecco, ho cercato di indagare anche il bestiario personale di Chagall, i giochi di parole yiddish che troviamo nella sua pittura, per poi passare a esaminare, a tentare una lettura di questi cinque meravigliosi quadri, questi cinque meravigliosi quadri che appartengono alla Bibbia sognata da Chagall. Quando Chagall dice io ho sognato la Bibbia, forse non vuol dire che l'ha vista come in sogno, non va mai preso tanto alla lettera, neanche nei suoi scritti autobiografici dove spesso mitizza molto se stesso. Forse voleva dire che con la Bibbia ha stabilito un contatto profondo, intenso, coinvolto, personale, che lo segna nell'intimo in una maniera che non può essere in alcun modo contrastata dalla volontà cosciente. Ed effettivamente il confronto con le opere letterarie, non solo la Bibbia che è la più importante tra le opere letterarie con cui Chagall si confrontò, ma anche con l'Odissea, con il romanzo ellenistico, con le favole di La Fontaine, con i racconti di Gogol, i racconti di Pietroburgo di Gogol e con altre opere letterarie, è ciò che probabilmente salvò Chagall da un'arte ripetitiva o da uno svuotamento creativo nell'appiattirsi su alcuni temi, su alcune figure che continuamente ritornano. Il confronto con la Bibbia trae forse il meglio da Chagall e questi cinque quadri, nella loro collocazione così appartata, con il grande numero di bozzetti, di guazze, di pastelli preparatori, forse vogliono dirci davvero qualcosa di importante. Chagall poco prima di morire, pochi mesi prima di morire, si fece accompagnare, il 97enne insomma, in questa sala, volle sostare in silenzio in questa sala e sussurrò alla persona che era con lui, Dio è qui. Quindi dava grande importanza a questi quadri. Lo stipite della porta d'ingresso recca una formella, una formella in ceramica, in cui Chagall ha scritto di sua mano a vava, ma femme, ma joie, mon allégresse, a Valentina, mia moglie, mia gioia, mia allegria. Allora partendo da qui è un uomo anziano che sta parlando alla propria moglie, cosa le sta raccontando? Entrando nella sala l'audio guida dice abbandonatevi al sogno, sognate, ma non c'è nulla di sognato in quei cinque quadri, non c'è, c'è la realtà, c'è il tempo, c'è la concezione ebraica del tempo, c'è la realtà dell'amore, del divenire, del desiderio, c'è il cantico dei cantici, quello che il cantico dei cantici è stato per Chagall. E allora io ho cercato di interpretare questi quadri e questi quadri mi hanno parlato delle tre donne della vita di Chagall, Bella che muore nel 1944, Virginia Haggard che gli diede un figlio ma non volle essere sua moglie, lo lasciò per un altro uomo, per Charles Lehan, il fotografo belga, e poi Valentina Brodsky, la moglie degli ultimi anni, va va appunto per gli amici a cui la sala è dedicata. E qui Chagall parla di due unicità, Bella e Valentina. C'è un albero coricato nella seconda tela, in questo albero c'è una ragazza nuda, addormentata, bianca, c'è il profilo di un giovane, è il viso di Chagall ricopiato da una foto del 1917, c'è il asinello che è il simbolo di Wittievsk e questa donna nuda, bianca, addormentata, con gli occhi chiusi, è bella nella sua morte. L'albero della vita è stato divelto, ma c'è un'altra donna ai piedi dell'albero che è rossa, del colore della vita, del colore della città, che sta pascolando le pecore come l'amata del cantico, è Valentina, è la sua stagione, è lei che in qualche modo con la sua presenza tiene viva la memoria di Bella, permette alla memoria di Bella di essere una memoria ebraica, vera, viva, presente, ma memoria. È lei che evita confusioni, è lei che è dal suo corpo che si imprime, quella linea che sembra quasi il perimetro di un grembo nel quale Bella riposa nella propria morte. C'è anche Virginia in questo quadro, ma c'è anche appunto la bellezza del desiderio che rende irreversibile il tempo, lo slancio vitale, come afferma Minkowski, il grande psichiatra, fenomenologo nel suo studio sul tempo vissuto, la dignità della donna, la bellezza dell'essere in due, la bellezza di questo cercarsi dell'uomo e della donna che rende irreversibile il tempo e porta ad abitare nel tempo creato. È il contrario dell'agnosi, il tempo è fatto per essere abitato, consumato fino al compimento, perché tutto sia compiuto, non è un luogo da cui fuggire, non è un luogo da evitare e la donna incarna la sovrabbondanza del tempo. La donna è Talet, è colei che avvolge l'uomo, la donna è il giardino, la donna è colei che rende possibile all'uomo l'incarnarsi nel tempio creato, irradicarsi nella terra e nel divenire. Ecco, l'analisi dei cinque quadri vuole essere più puntuale possibile, ma rimanere aperta, rimanere un discorso aperto, rimanere un invito a uno sguardo e a un atteggiamento e, se possibile, anche un invito alla gioia.